Sono partiti dalla tragedia di Mononga di 112 anni fa per riflettere su casi di cronaca più recenti. Centinaia di studenti della Basilicata e del Molise hanno partecipato ad un concorso indetto da INA e ILAN, mille associazione Giuseppe Tedeschi, sicurezza sul lavoro e migrazione ieri e oggi, il tema su cui si sono confrontati i giovani, producendo video e ricerche che hanno preso le mosse proprio dalla strage del 6 dicembre 1907, quando in una miniera negli Stati Uniti morirono per una esplosione oltre 360 lavoratori. 171 erano nostri connazionali, emigrati oltreoceano, e 87 erano molisani. Oggi a Matera la cerimonia di premiazione del concorso. Sulle 11 scuole vincitrici, 8 sono molisane. Primo classificato il liceo Majorana Fascitelli di Isernia con il progetto Cacciatori di Orizzonti. Sono problematiche assai sentite, assai discusse e dibattute analizzate nella scuola contemporanea, a partire dai temi dell'emigrazione, quella storica legata a Mononga, che ha visto la nostra regione, il Molise, dare un contributo in vittime molto molto alto e poi i temi della sicurezza nei luoghi del lavoro. Ci è venuta quest'idea di partecipare a questo progetto perché siamo molto vicini a questa causa e da parte nostra ci è stato molto interesse nel approfondire questa tematica e nel andare a denunciare quasi quelle che sono le problematiche attuali. Sul podio anche i ragazzi del Giordano di Venafro, arrivati secondi. Attraverso questo video il messaggio era di non arrendersi, ampliare i propri orizzonti, ma comunque essere consapevoli di tutte le condizioni che devono garantirci sicurezza e protezione soprattutto per quanto riguarda l'ambito del lavoro. Anche a noi adulti questi ragazzi hanno fatto venire un po' di brividi perché con passione hanno raccontato questa tragedia che ha toccato da vicino le nostre piccole comunità molisana e da lì hanno sviluppato anche con un taglio filosofico il messaggio forte da lanciare su questi temi come la sicurezza e l'immigrazione, come sappiamo sono temi di stringente attualità. Premi e menzioni speciali anche a scuole di Campobasso, Termoli, Boiano, Santa Croce di Magliano, Isernia, Guglionesi e Agnone.